Meteograd. Le previsioni meteo sempre con te. Segui ora il canale e lascia un mi piace. Grazie. Evoluzione sul comparto euro-mediterraneo per lunedì 1 aprile 2024. La vasta depressione presente sui settori occidentali europei tenderà a riassorbire il getto oceanico e da perdere l'alimentazione fredda da nord. Di conseguenza il flusso perturbato tenderà a distendersi lungo i paralleli invadendo più direttamente l'area mediterranea centro-occidentale e spingendosi fino sui settori orientali europei. Inoltre, anche il promontorio anticiclonico di natura subtropicale attivo sul Mediterraneo orientale piegherà verso sud sotto la pressione zonale a più alte latitudini. Previsioni meteo in area italiana per lunedì 1 aprile 2024. Nord. Irregolarmente nuvoloso con addensamenti a tratti compatti ed accompagnati da piovaschi sparsi specie nella prima parte della giornata. Attenzione! La fenomenologia potrebbe risultare intensa sul comparto orientale, dove vi saranno anche dei temporali. Nevicate sulle cime alpine. Fenomenologia in attenuazione dal pomeriggio con schiarite serali. Centro. Marcatamente instabile con piogge e temporali che attraverseranno tutte le zone con progressione ovest-est. Attenzione! La fenomenologia potrebbe risultare abbondante con precipitazioni tutte concentrate in breve periodo. Tendenza dalla sera a schiarite iniziando dal comparto tirrenico. Sud e isole. Nubi sparse, più compatte sulla Sardegna dove vi saranno piovaschi sparsi nella prima parte della giornata, in trasferimento dal pomeriggio sul comparto basso tirrenico. Asciutto per tutto il giorno sulle restanti zone. Temperature massime in diminuzione al nord e dal centro nord, specie in occasione della fenomenologia più intensa e diffusa. Minime nel complesso stazionarie. Valori ancora superiori alle medie, specie nelle minime. Ventilazione tra moderata e forte in rotazione dai quadranti sud-occidentali. Rafiche in mare aperto, lungo le coste e sui crinali appenninici. Mari da mossi a molto mossi, specie in area tirrenica. Tendenza in area italiana per martedì 2 aprile 2024 e mercoledì 3 aprile 2024. Generale miglioramento martedì con ampie schiarite su tutte le zone, anche se non mancheranno dei residui addensamenti sul comparto toscano settentrionale e dal nord-est, accompagnati da sporadici piovaschi in fase di rapida attenuazione. Il miglioramento tuttavia avrà vita breve, in quanto da mercoledì assisteremo ad un nuovo peggioramento al nord e poi al centro nord con pioggia a tratti persistenti e diffuse. Ancora nevicate sulle cime alpine. Altrove nubi in aumento in un contesto asciutto, anche se dalla sera faranno ingresso alcuni piovaschi al centro. Temperature stazionarie o al più in lieve calo nelle minime. Venti moderati da sud-ovest. Grazie a tutti della vostra attenzione. Non dimenticarti di iscriverti al canale e di attivare la campanellina per ricevere le previsioni aggiornate.